...ottimismo, abbiamo detto che si va verso un nuovo calcio, ma noi siamo qui per parlare di questa nuova sede. Qualche parola è stata detta anche da parte mia, che mi sono documentato nel limite del possibile, però adesso per capire al meglio quello che accadrà, godiamoci insieme questo video.